E di nuovo allarme microdiscariche nel comprensorio ionico etneo, anche se i rifiuti presenti lungo le strade dei diversi comuni sembrano depositati sul luogo già da diverso tempo. Ad ogni modo, stavolta ad essere sotto accusa non è un solo comune, poiché il problema sembra piuttosto riguardare varie zone del territorio, tutte accomunate dalla stessa problematica. La scena, infatti, è pressoché identica in tutti i comuni. Cumuli di rifiuti di ogni genere sparsi ai margini delle strade e, in alcuni casi, addirittura ad ostacolo al transito delle autovetture, oltre alle classiche scie di aria maleodorante. La sporcizia pare dunque continuare ad aumentare, ma la colpa, si sa, necessita di essere divisa a metà. Da un lato è evidente la mancanza di senso civico dei cittadini, che oltretutto trasgrediscono la legge gettando i rifiuti in aria in cui lo scarico è vietato, e si beffano del sistema di raccolta differenziata attivo nei comuni dei quali sono peraltro arrivate le segnalazioni. Dall'altro lato, però, si punta il dito anche contro le amministrazioni comunali, in quanto, a ben guardare lo stato delle strade, le attività di controllo e sanzione risultano poco efficaci. Come del resto risulta dubbia, secondo alcuni residenti, l'attività di monitoraggio affidata alle telecamere di sorveglianza posizionate nelle zone interessate. Dal breve sopralluogo effettuato risultano diverse le zone che presentano microdiscariche a cielo aperto. Tra queste, via Luigi Settembrini e Giarre, via Sant'Anna a Mascali, l'incrocio tra via Spiaggia e via Quarta Traversa a Fondachello e lungo la strada provinciale che collega riposto a piedi di Monte Etneo, passando per Nunziata di Mascali, quest'ultima di competenza della provincia. Dunque, tale problematica sembra riproporsi ciclicamente, alternando i periodi in cui vengono fatte le bonifiche e ripulite le strade, a quelli in cui la spazzatura torna a occuparle. L'unica cosa che sembra cambiare è la scelta delle zone dove di volta in volta scaricare i rifiuti.